A Rovereto in provincia di Trento, in Trentino Alto Adige, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 novembre, si è svolto il terzo festival della meteorologia italiana. Per la prima volta all'evento era presente lo staff di Meteo Giuliacci e il colonnello Mario Giuliacci che ha visionato il festival nella giornata di sabato 18. È stato accolto con grande affetto e simpatia da tutti i partecipanti, dagli appassionati fino ai colleghi, per esempio da Guido Caroselli e anche il figlio Andrea Giuliacci. Tante le conferenze organizzate nella due giorni del festival della meteorologia. Venerdì 17 è stato presente il vice direttore del Dipartimento delle Previsioni Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine di Reading, Eric Anderson. Nel pomeriggio invece è stata la volta di Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Nella giornata di sabato, dopo le conferenze della mattinata, la tavola rotonda ha attratto l'interesse di tantissime persone che hanno riempito la sala del festival. Cari amici, un caro saluto da Meteo Giuliacci in diretta da Mario Giuliacci dal festival della meteorologia. Come vedete ci sono anch'io qui a presentare il verbo di Meteo Giuliacci. Quindi mi raccomando, non dimenticate Meteo Giuliacci.it. Se no saranno tuoni, fulmine e sete sulla vostra testa.